E' nata un'azione congiunta di tutto il fronte italiano per sferrare un attacco di sfondamento su tutta la linea. Alessandro Sperduti reduce dal recente successo della serie Nero a metà con Claudia Mendola. Com'è stata questa esperienza? E' stata una bellissima esperienza, un bellissimo gruppo di lavoro. Marco Pontecorvo è un regista eccezionale e ci ha accompagnato per tutti i sei mesi di riprese. Insomma è stato un periodo bello lungo che abbiamo passato insieme. Si è creato un'atmosfera di collaborazione, di affetto. Siamo ovviamente rimasti tutti in contatto. Per cui insomma con Miguel per esempio abbiamo creato una bellissima amicizia che rimane, che c'è ancora ed è forte. Quindi mi ha portato tante belle cose, veramente una bella esperienza. Tra poco non posso non chiederti dei medici. Hai lavorato accanto a Dustin Hoffman, quindi mi devi dire com'è andata, com'è stato. E' stato bellissimo. E' stata un'esperienza anche quella pazzesca. Mi ricordo i primi giorni, soprattutto in realtà in fase di lettura. Perché c'era questa notizia di Dustin Hoffman nel cast. Quindi insomma per me è sempre stato un punto di riferimento, insomma. E' uno dei motivi per cui ho scelto di continuare a recitare. Quindi era una bella responsabilità diciamo. Ma lui in realtà poi ci ha messo a tutti, insomma, a nostro agio. Perché era carinissimo, è venuto da presentarsi con tutti. Anche sul set era molto scherzoso. Mi ha chiesto come va, come stai, sei felice, mi ha chiesto a un certo punto. Insomma domande anche abbastanza. Poi se te le fa Dustin Hoffman, no? C'hanno un certo significato. Sei qui al Festival di Spello, anche per ricordare il maestro Ermano Olmi. Hai lavorato per Torneranno i Prati. Un suo ricordo? Guarda, è difficile racchiudere tutto magari in un ricordo specifico. Perché è stata... Lui mi ha fatto un regalo enorme. Perché anche solo il fatto di poterlo conoscere. E poterlo ascoltare e imparare da lui è stato un regalo immenso. Cioè tuttora tutti quanti, poi anche con gli altri ragazzi del casto, ci portiamo dentro questa esperienza che ci è rimasta e ancora forte. E penso che resterà così per tutta la vita. Perché ci ha cambiato la vita letteralmente a tutti. È stato un po' un punto di svolta, non so come dire. Cioè ci ha dato degli strumenti, delle cose. Ci ha fatto vivere quel mese e mezzo, più o meno due mesi, in questa bolla. In cui cercavamo di arrivare un po' all'essenza delle emozioni, a quello che serviva per raccontare quella storia. E lui ci ha accompagnato. È difficile descrivere in che modo. Cioè era un'esperienza a livello anche spirituale molto profonda. Non so come dire. Quindi sono e sarò per sempre grado per questo. A proposito di grandi registi, sarai nel prossimo film di Nanni Moretti. Ci puoi anticipare qualcosa? Purtroppo no. Per adesso non posso dire niente. Grazie a te.